Una buona serata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Roma code a tratti tra Firenze Nord e Aglio. In direzione Roma code a tratti tra Barberino e Incisa Reggello. Sulla A11 in direzione Pisa code tra Firenze Ovest e Pistoia. In direzione Firenze code tra Firenze Nord e Firenze Peritola. Code a tratti tra Pistoia e il Bivio per la A1. Sulla Fibili a causa di un incidente è chiuso lo svincolo di Livorno-Porto in entrambe le direzioni. Per traffico intenso code in uscita a Scandici e a Lastra Assigna in direzione Mare. Rallentamenti tra Scandici e Firenze e Scandici in direzione Firenze. Buon versi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!